L'aereo era un terrificante Savoia-Marchetti, 1915, in tela cerata, precipitato dodici volte negli ultimi due conflitti mondiali e rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Oh, vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, sterti! Piano, porca puttana, che si rompe tutto! Come si rompe tutto? Che ha detto? La signora qui fa gentilmente notare che l'aereo ha una certa età e allora di usare una certa... Forza, faccia di culo! Avanti, avanti, strozzaccio! Non ho tempo da perdere io! Piano, piano, ma ci sono prima io! Dai, sbrigati, cazzo! Ti aspetti a mettere a sedere quelle chiapparce che si ritrovi? Piano, perdi, porca puttana! Ci roghi soli state per fuori! Via, via! Dove sono le cinture? Ecco!